Ciao a tutti, durante un progetto sulla Lean Organization abbiamo parlato del concetto di fiducia di Bootsman. La fiducia non si costruisce ma bisogna guadagnarsela, non guadagna con intensità ma con coerenza, con piccoli gesti, azioni, giorno dopo giorno, tutti i giorni. C'è bisogno di fiducia per cambiare e innovare, anche quando il risultato è incerto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e così ne discutiamo. Concentrazione, concentrati in azione.